Ed eccoci qua a un nuovo video di Pedro Norma, post partita di Milan Parma. Stiamo spionando l'impresa, finita 2-2 in quel di San Siro, peccato. In pratica abbiamo fatto la stessa partita che abbiamo fatto con l'Inter. Si siamo chiusi, siamo stati anche fortunati perché il Milan ha preso 3 traversi e 1 paro. E fino al 91 c'è stato quasi il sogno di spugnare San Siro. Il risultato l'ho visto qua che nel suo gruppo del Parma, certi erano anche i cazzari perché giustamente a 3 minuti della fine al 91 prende il gol. Però il risultato alla fine è giusto, forse meritava anche più in mira di vincere. E poi giochi sempre con le grandi squadre. Cioè ogni punto che fai con Inter, Juve, Mina, Roma, Lazio, Napoli, secondo me è olocolato. Poi se vinci è un'impresa, però non aver perso né a Milano né con l'Inter e con il MIA, secondo me è veramente ottimo. Prestizioni molto buone di tutta la squadra, secondo me, a parte secondo me Blugumann, che non mi è piaciuto per niente, l'Inter con il passato. Nani veramente mi ha sorpreso, voto 7 e mezzo, ho gol e assist. Siamo stati molto cinici e peccato perché quei 4 minuti di recupero avevo un po' più di fortuna. Potevi addirittura fare il miracolo. Comunque, 2 a 2, si va a 1, siamo a 14 in classifica e vediamo un po' di fare questa breve vittura col Cagliari. Non sarà sempre perché il Cagliari è una squadra alla nostra portata, però forse un po' più meglio di noi, come in certi, soprattutto in attacco, però con questa griglia, con questa voglia, secondo me, possiamo portare a casa il risultato. Mi è piaciuto molto Osorio, Bruno Alves, Hernani, peggiori in campo, secondo me, Caramò, 5 e mezzo, prestazione veramente, come al solito, mi insulsa e bruma. Poi gli altri, bisogna dire che hanno giocato veramente bene, ci sono sbattuti, Niverani ha capito che per salvarsi non bisogna fare per gioco, ma bisogna fare contropiede e una buona difesa, così ti salvi, se no con le prime 5 partite andavamo, sarebbe spediti. E avanti così, speriamo di fare una buona partita e soprattutto di vincere mercoledì, anche se l'importante è non perdere, perché anche un pareggio poi non è che sarebbe proprio da buttare via, secondo me, anche se l'obiettivo è vincere, ovviamente, con il Cagliari. Iscrivetevi al vostro, al mio canale, credo o no, ma mi raccomando, fate poche cose che volete.